Ciao ragazzi, oggi vi facciamo vedere come sono le prove del coro durante l'emergenza. E hai l'ingresso? Sì, sì, ciao, autogertificazione? Perfetto, disinfettati. Bene, puoi andare, avanti il prossimo. Ciao. Sei andata in bagno a casa? Sì. Bene, perché qua non si può. Disinfettati le mani. Puoi andare, avanti il prossimo. Ciao. Ciao. Disinfettati le mani. Alla pelle, subito il tampone. Non mi portate via, per favore. Avanti un altro. No, mia mamma non vuole che usi termoscanner. Allora, metodo tradizionale. Avanti un altro. Hanno ucciso l'oraggio, chi ci è stato non si sa, forse quelli della mala. Allora, metodo tradizionale. E noi, come ci vediamo? Mentre facciamo lezioni, dobbiamo mantenere due metri tra le file. Tu stai sempre lì. Via. Tu stai sempre lì. Tu stai sempre lì. L'altro gruppo. Tu stai sempre lì. Adesso insieme, eh? Via. Questa è insomma una pione, eh? E a volte succede che... Oh, allora, a parte la confusione che c'è sempre fuori, guarda... Oh, allora, a parte la confusione che c'è sempre fuori, guarda... Ogni volta che usiamo i microfoni, dobbiamo igienizzarli. E questo me lo faccio a casa io. Ma dopo molte pulizie... Ma cos'è questo coso? Non sei l'impicciolito? Un'estate di risate, festa, balli, musica, musica, scottature esagerate, sole, mare e libertà. Un'estate di risate, nasi rossi come clown. Notti in bianco serenate, alla faccia del lockdown. Per me di interminare... Non è un problema...